sul carretto a destra ok non ricaricare adesso abbia fatto sfidare movimento guardo sì sulla sinistra la giupa collinetta sopra la collinetta sopra ping esattamente lì ce n'è uno eccolo lì destra pure qui destra sinistra dietro il ciascuglio sopprimo quello sulla collinetta ricarico ancora lì sulla collinetta arriva che usciamo dove mostrare a posto preso in l'altro testa ho mancato dov'è? si ha fatto? no io sotto al ponte volendo preso uno madonna è caduto uno sotto sono anche vicini occhio qua io qui sono sotto al ponte e qui c'è linea di tiro volendo qua grazie non si capisce più niente io mio sono un fischio cattiveria dei razzi anticaro sulle ponte madonna quello è molto male madonna madonna cirito sul cadavere preso uno uno andiamo a buttare pomogene tendono a scendere da quella direzione della collina diciamo io sono qua mi sa io come fanno preso uno ho preso un altro e se ti metti nella mia posizione quando arrivi tanta roba non c'è più da spawnare cazzo ci hanno fatto la guarnigione come? bombardamenti? che ha rammato pure il nemico cristo troppo distante dovete fare qualcosa adesso dieci minuti eh c'è anche il caro nemico madonna ho ucciso uno rukai con la granata in mano la sta per lanciare cazzo si li vedo cattiuscia in arrivo cazzo cerchiamo di capire dove strua a terra però no esattamente dove sono io cristo pensiamo che so per il volare è altamente impreciso ma ok mi sono defilato madonna non ci credo è impossibile da dietro la casa impossibile ho dietro di te io metto qui la cassa delle munizioni proprio davanti a te hola spamma quello che vuoi oh i mici già ok li vedo sono lì destra di quel ping guarda questo furbo bisogna dire che spara a me vedi adesso sono io il foglione qua lo vedo preso l'hai preso? mi sa aspettare qua da deployare l'arma eh però controlla quella perché sappiamo che arrivano se sono seguiti prendi una linea vedete ho tirato a muzioni a caso questi che si fanno così si mettono ancora a saltare mi è nascosto fatto bella ok sto osservando forse hanno messo lo spawn un po' vedo altro bravo si lui non so se l'è fatto ma sicuro si è cagato sotto sulla si qui preso in testa negli alberi porca puttana adesso bravo c'è un altro sinistra verso destra quel ping bravo ricarico vai dimmi quando stai finendo i mercati di cose che ti porto le munizioni laggiù ping sinistra verso destra bravo ce ne sono altri qua più defilati b non vedo sempre quella zona lì comunque devono passare di qua oh bravo quel ping era preciso del tizio quella zona lì ricarico risporto qua dove sono io potenzialmente poi piazzati forse sulla stazionata sarebbe ottimo punto avanza il mondo preso un altro non rivolgo che si te proprio se si è sulla stazionata in legno magari mettete il papagliaio qua come cazzo hai fatto mentre ti lancio come cazzo faccio a uscire più che altro quella domanda sono caduto qui come un mona non ci credo ok ce l'ho fatto questa è una buona posizione per te secondo me occhio arrivano anche qui da sinistra quindi occhio hanno fatti cerchionare vedo qua preso in testa bravo c'è qualcuno lì un thompson o qualcosa del genere non thompson ppsh ppk lì in mezzo si ricarico spiare sul ping proprio su pressione appena riesce ovviamente qui c'è un passaggio lì in mezzo niente io ti controllo a destra purtro oh li vedo qua qua si vedo si c'è un altro quella zona più o meno occhio non lo vedo più ok lo vedo là dietro no è dietro un albero il bastardo vai vai guarda quelli a sinistra tu guarda quelli tuoi occhio ci cerchino mi calco sto qua perché tanto guarda che visita è il ride in front of us 175 140 tu non hai la gare non hai cambiato classe si ho dato emozioni preso in testa uno lì ping verso destra sta dando sempre la solita fattoria sempre voi vedi anche a sinistra attenzione mi sparo non lo vedo non lo vedo sempre lì fattoria mi ha fatto una bomba sono ancora vivo non so perché ricarico dai 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 stiamo a giocare bene adesso come posizione sono in pula beh si ci riposizioniamo io bisogna riposizionarsi spesso effettivamente quando spawni me lo dici allora aspetta dove cazzo eravamo qua gazon nel punto otte ho preso uno ho preso dammi il punto quella zona lì c'è spugli non so di piacere dove eccoli che avanzano pure da giù sotto da giù la collina sono un po' esposti qua vieni brutto vieni con me vieni a sinistra vieni vieni ne ho fatto cazzo vieni in vieni via Grazie a tutti.